Dal 15 giugno al 16 settembre 2018 troviamo in programma presso le sale di Villa Bardini la mostra Icons dedicata all'arte di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, Steve McCurry. Il percorso espositivo si snoda attraverso la selezione di 100 scatti che ripercorrendo le varie esperienze vissute da McCurry nel corso della sua carriera permette, attraverso le sue fotografie, di creare vere e proprie icone del nostro tempo. Siamo a Villa Bardini, un posto assolutamente splendido con questa retrospettiva di Steve McCurry di 100 scatti che raccontano tutto il meglio della sua produzione, le sue fotografie più amate che toccano tutti i grandi progetti che lui ha attraversato con in particolare una sala dedicata al suo primissimo reportage in Afghanistan, quello che gli diede poi la ribalta mondiale e ancora in bianco e nero. Poi troviamo i suoi ritratti famosi dove la dignità umana viene messa in scena da questi sguardi incredibili, le sue fotografie dei conflitti, le sue fotografie dei bambini e poi le sue fotografie più poetiche, più amate, più riconosciute e naturalmente quella della ragazza afghana che tutti tanto amano e alla quale abbiamo dedicato anche una sala con il video che racconta la storia di come poi fu nel tempo ritrovata. Una mostra bellissima, abbracciata da questa villa che è un posto splendido e pensiamo che potrà piacere come è stato bello per noi poterla montare. Siamo molto contenti come Villa Bardini, come Fondazione Bardini di poter ospitare questa mostra fotografica che è davvero qualcosa di eccezionale, che si integra perfettamente in quelli che sono i locali di Villa Bardini e questo stupendo paesaggio esterno. Steve McCurry non è un fotografo di guerra, è un fotografo che fissa delle immagini, dei volti, dei paesaggi e nei volti, nei paesaggi si vedono quella che è la vita, i bambini, la guerra, gli animali, l'ambiente. Quindi una mostra di questo genere con queste immagini così importanti, così forti, secondo noi trova un'accoglienza ideale nelle nostre stanze. Siamo molto contenti di poter ospitare questa mostra, siamo convinti che avrà un grande successo di pubblico. Villa Bardini nell'ultimo anno si è aperta a quella che è a Firenze, ai cittadini, ai fiorentini, dando sempre delle opportunità e delle immagini verti. Io credo che questa che mostra e si svolgerà nel periodo più importante Villa Bardini, che è quello estivo, avrà un grandissimo successo. Sono convinto che per i fiorentini sarà un ulteriore stimolo per venire a fare due passi in questo paradiso di verde alle porte della città. Io sono molto felice di essere qui a rappresentare la fondazione e di vedere come in Villa Bardini che si siano continuamente succedute delle mostre di alto livello come questa. Io credo che una mostra come questa di Steve McCurry è una mostra veramente unica perché la rappresentazione dell'arte attraverso la fotografia è qualcosa che, a parte a cui siamo abituati non tantissimo, ma questo fotografo di così altissima qualità si è sempre pensato che fosse un artista che lavorava in guerra. L'artista non ha lavorato solo in guerra, ha lavorato anche da giovani in luoghi estremamente pericolosi, ma è un uomo che ha girato il mondo, ha amato le persone, la persona, ha amato gli ambienti ed ha voluto riprodurli, riprodurli per far capire che dietro quella persona c'erano mondi, mondi diversi, ma una cosa che vorrei tutti notaste quando verrete a visitare questa mostra e spero che sarete tanti, è come l'uomo si è messo al centro nella sua dignità. La dignità dell'uomo che è sempre la stessa pur variando i mondi in cui vive. E quindi è questo uomo, dal bambino agli uomini, agli anziani, alle donne, che rappresentano nella loro compostezza questo grande bene che secondo me ognuno di noi dovrebbe ricercare per se stesso, cioè la dignità della propria vita, anche in momenti in cui molte persone purtroppo rischiano di doverla perdere perché la vita non è sempre facile. Grazie mille. Grazie mille.